Gli enti locali italiani disattendono le regole di trasparenza dettate dall'autorità nazionale anticorruzione in relazione ai rappresentanti dell'ANAC nei comuni, la cui nomina ricade generalmente sui segretari generali. Succede in una ventina di comuni italiani, compreso quello di Modica. A portare alla ribalta la questione, una circolare dell'ANAC, presieduta da Raffaele Cantone e inviata a enti locali ed enti pubblici. Raccomanda che i responsabili dell'ANAC siano dirigenti dal comportamento integerrimo e soprattutto non abbiano condanne a carico o procedimenti giudiziari in corso. Milena Gabanelli, in una inchiesta sul Corriere della Sera e in uno spazio sul Tg di La Sette, ieri sera ha elencato i casi che attualmente collidono con questa raccomandazione. E c'è anche quello del segretario generale del Comune di Modica, Giampiero Bella, rinviato a giudizio per abuso d'ufficio aggravato e continuato e falso ideologico. La nomina a rappresentante dell'ANAC, tra l'altro, prevede anche un aumento dello stipendio fino al 50%. La circolare dell'autorità nazionale mette i paletti su queste nomine, ma fino a questo momento non è stata effettuata alcuna verifica. Nulla di illegale dunque, ma trattandosi di figure che dovrebbero garantire il massimo della trasparenza, sarebbe opportuno che tutti gli enti locali, non in linea con la raccomandazione dell'ANAC, prendessero gli opportuni provvedimenti, scegliendo altri dirigenti destinati alla prevenzione della corruzione al posto di quelli che non rispondono a determinati requisiti.